I grandi registi ti fanno respirare delle emozioni che sono più in fondo dei racconti dei loro film. Sono delle riflessioni che ti portano vicino alle grandi domande. Questi sono i grandi registi. Poi aveva ancora bisogno di una distanza più grande e di avere un qualche cosa che poteva corrispondere alla grandiosità di una metropoli, ma che fosse diversa. E questa cosa era la natura. Guardare le piante, sentire la pioggia, vedere la neve, cioè avvicinarmi a un tempo dell'infanzia. Grazie. 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 Grazie.